Grazie per la vostra presenza. Vorrei ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo, vorrei ringraziare le autorità civili e militari presenti a questo nostro incontro che hanno accettato l'invito della consulta diocesana per le aggregazioni laicali che assieme all'ufficio diocesano per la pastorale sociale del lavoro hanno promosso e condiviso questo incontro e ringrazio naturalmente padre Bartolomeo Sorge per il dono che stasera sta facendo alla nostra comunità civile di Ragusa e alla nostra chiesa ragusana con la sua presenza e per le cose che ci dirà. Si è svolto da poco il quinto convegno ecclesiale nazionale di Firenze che ha spinto la nostra chiesa a interrogarsi sui bisogni, sulle aspettative, sulle necessità degli uomini e delle donne in Italia per riadeguare la propria proposta, il proprio modo di dire dio nel tempo. e ha provato a intervenire per ridare una cultura che contrasti l'individualismo, che produce solitudine, che produce povertà, disuguaglianza. Sicuramente nelle nostre chiese locali ci sarà una forte regaduta di questo. Abbiamo letto, approfondito, ascoltato i tanti insegnamenti che in questo periodo di pontificato del Papa Francesco ci sono stati date e anche gli insegnamenti legati all'ambito sociale. La recente enciclica Laudato Si ed anche il documento Evangelii Gaudium che non è un documento sociale ma in questo documento un capitolo, il quarto capitolo, viene integralmente dedicato alla dimensione sociale dell'evangelizzazione. E in questo capitolo, fra l'altro, il Papa dice questo La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima è una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune e la carità è il principio non solo delle micro-relazioni rapporti amicali, familiari del piccolo gruppo ma anche delle macro-relazioni rapporti sociali, economici, politici Quindi abbiamo sentito il bisogno, come aggregazioni laicali e come cittadini di comprendere meglio e di inquadrare in modo complessivo cosa il Papa intenda oggi per impegno politico e come pensa che il cristiano, ma anche ogni uomo di buona volontà dovrebbe rapportarsi con esso Su avvenire di qualche mese fa veniva dato conto di un incontro del Papa con i giovani universitari e il Papa ribadiva la necessità di studiare gli insegnamenti sociali della Chiesa e poi concludeva Comunque, se avete qualche dubbio in materia rivolgetevi a Padre Sorge che ne sa più di me per questo noi siamo qua Noi siamo obbedienti al Papa ma questa obbedienza ci viene molto facile perché da tantissimo, da tanto tempo la riflessione di Padre Sorge ci accompagna ci guida e ci coinvolge Scrive Marco Gallo che è professore della Cattedra Pontificia dell'Università Cattolica Argentina che esiste una profonda continuità tra il pensiero politico e sociale del Cardinale Bergoglio e quello di Papa Francesco non perché coincidono le persone ma nel tempo da quando Bergoglio non era né vescovo né arcivescovo c'è una continuità di quel pensiero e il fulcro, dice Marco Gallo il fulcro di questa continuità è porre il porre al centro è un forte accento nel definire i poveri come centro e priorità assoluta non solo per la cristianità ma per la società nel suo complesso e quindi come centro della politica mi piace sempre in questa fase di pre-premessa rispetto a quello che devo dire mi piace ricordare che padre sorge nel suo libro La Traversata uno dei libri più belli riferendosi alla divina fantasia che lo ha condotto nel servizio alla chiesa in questi quasi 60 anni e che lo ha condotto dalla direzione di civiltà cattolica alla direzione del centro di formazione politica Pedro Arrupe a Palermo nel 1985 alla direzione di aggiornamenti sociali e popoli la fantasia divina dispose racconta padre sorge che lui conoscesse pure le frontiere del cambiamento sociale in America Latina infatti nel 1979 Papa Giovanni Paolo II lo inviò come esperto alla terza conferenza della generale dell'episcopato latinoamericano il CELAM3 e scrive padre sorge non so se lo ricorda quello che ha scritto scrive così nel mese trascorso a contatto con i rappresentanti delle 22 chiese che lo compongono ho capito che l'amore per i poveri per la giustizia per la pace non è materia che si impara a scuola è profezia la profezia è sempre un guaio per chi la riceve e per quanti ne partecipano e di questo guaio credo questo è anche un frutto il fatto che è ancora in giro a testimoniare questa questa profezia ma credo che la conoscenza della realtà sociale della realtà culturale nel quale il Papa è vissuto è un modo per comprendere meglio il pensiero di Papa Francesco per assolvere brevemente al convito che all'inizio mi è stato dato quello di introdurre la discussione parlando della politica sia come teoria che come prassi nella società postmoderna io direi dico questo che la metafora del navigare a vista rappresenta lo stato delle cose non si tratta di una traversata che presuppone una meta ma come scrive un politologo Revelli ci troviamo a viaggiare con mappe scadute con coordinate mutevoli in uno scenario come si suol dire ormai liquido in cui le grandi narrazioni della modernità come la democrazia con i valori di uguaglianza e libertà ma anche le grandi organizzazioni della modernità come lo stato il partito i sindacati sono diventate elastiche permeabili affette da una patologia una patologica crisi di fiducia parafrasando Woody Allen potremmo dire che i partiti del novecento sono morti la democrazia è malata e noi non è che stiamo tanto bene il tempo presente sembra connotarsi come l'era della sfiducia e della diseguaglianza le nostre società che negli ultimi due secoli si erano molto accorciate ora si sono di nuovo allargate con una distribuzione della ricchezza che fa dire a Bauman che siamo dinnanzi a una nuova forma di banditismo da strada una diseguaglianza che è quantitativa ma anche qualitativa una diseguaglianza una nuova diseguaglianza quasi antropologica tra coloro che in questo tempo hanno vinto la guerra dello spazio e quindi riescono a muoversi in tutti i modi fisici ma anche annullando il tempo correndo sulle fibre ottiche e i perdenti quelli che non si possono schiodare dalla terra dal luogo dove sono i nuovi servi della Cleba oppure i mobili lenti coloro che per muoversi devono attraversare i mari devono superare confini sempre più presidiati coloro che in questo muoversi si perdono scompaiono in questi passaggi forse possiamo dire che il tempo in cui si stiamo muovendo il tempo in cui la lotta di classe è finita perché l'hanno vinta i ricchi anche la democrazia dicevo è malata Anthony Giddens nel 99 citava il paradosso della democrazia diceva come è possibile che la democrazia si sta diffondendo dovunque e si pensa anzi di esportarla in qualsiasi luogo anche con le armi e i cittadini dei sistemi democratici sono fortemente delusi nei confronti dei processi democratici perché i cittadini dei paesi democratici sembrano così disillusi nei confronti della democrazia a prima vista la risposta era che non è la democrazia in sé che è in crisi ma piuttosto la versione rappresentativa liberale della democrazia cioè il tradizionale principio di rappresentanza non sembra essere più in grado di rappresentare questa società la democrazia liberale rappresentativa è sfidata da un desiderio di democrazia diretta e ciò è affermato dal fatto che i protagonisti della democrazia cioè i parlamenti e i partiti sono in crisi c'è un sondaggio della ispo del 2011 che ci dice che in italia 2011 solo l'8% della popolazione italiana aveva fiducia nel parlamento cioè 8 cittadini su 100 solo 8 cittadini su 100 avevano fiducia nel parlamento cioè sostanzialmente una democrazia senza popolo che rischia di diventare un popolo senza senza democrazia la crisi di fiducia nei partiti è un luogo comune non è solo italiana se ci può confortare è presente in tutti gli stati occidentali è difficile dire perché avviene in questo breve tempo ma sicuramente avviene perché sono avvenuti cambiamenti importanti si è superato il modello fordista la grande fabbrica che produceva la grande massa di lavoratori e quindi i grandi partiti di massa è iniziata una rivoluzione antiburocratica è iniziata una come dire una rivolta contro le oligarchie ma soprattutto è venuto meno quella è diventata sempre più evanescente l'antinomia tra destra e sinistra che aveva strutturato la diversità e avviene anche perché si affermano valori diversi rispetto ai valori del novecento si affermano quei cosiddetti valori post materialistici legati a nuovi stili di vita legati all'ambiente legati ai cosiddetti diritti sociali diritti civili si affermano i conflitti etnici eccetera e dentro questo i partiti non trovano più un elemento per legittimarsi c'è un dibattito che è aperto da tempo ma che aggiornamenti sociali nel numero di gennaio sta aprendo se ancora ha senso parlare di destra e di sinistra è un dibattito importante io sono convinto che è la realtà nella realtà esiste politiche di destra e di sinistra forse non nei partiti il problema della legittimazione dei partiti non è solo del ceto politico anzi soffermarci solo su questo è un modo per non renderci conto che i problemi della democrazia sono ancora più profondi tornando allo scenario questa democrazia dei partiti viene in parte soppiandata da altri tipi di democrazia e la democrazia del pubblico la democrazia della sfiducia e la cosiddetta contro democrazia cioè si affermano altri modi di pensare alla partecipazione si annulla la partecipazione legata all'intervento con le elezioni nei partiti e si affermano altri tipi di partecipazione che però sono connotati da un astio da uno scontro dalla appunto dalla sfiducia rispetto a tutto ciò che è l'armamentario della politica precedente nella politica pubblica nella democrazia del pubblico di Manin i partiti diventano degli strumenti che utilizzano la comunicazione soprattutto la televisione per affermarsi il rapporto personale sostituisce il rapporto ideologico la personalizzazione dei partiti i partiti diventano partiti personali a servizio di di un capo l'immagine diventa tutto avviene la trasformazione dell'homo sapiens che capiva senza vedere all'homo vidence che vede senza capire e la democrazia della della sfiducia quella elaborata da da un francese che dice sostanzialmente che il popolo si ritrae dalla democrazia rappresentativa e si concentra nel controllare il potere nel farsi dar conto del potere ma rinuncia a sostituire la classe dirigente e pensa soltanto a come controllarla a come vietarla e a come chiederne conto in modo giudiziale e la democrazia della sorveglianza del veto e della giudiziaria dentro questo dentro questo l'unico aspetto positivo è che siano appunto altre forme di partecipazione la partecipazione mentre scende la il valore rappresentativo dei partiti e dell'istituzione questa entropia della rappresentanza cresce un'altra forma di partecipazione che è quella di firmare petizioni di partecipare ad azioni di contrasto a manifestazioni anche a manifestazioni violente e un modo diverso di partecipare un modo che sta caratterizzando il nostro tempo questi modelli poi degenerano ulteriormente in due aspetti l'antipolitica e il populismo che sono strettamente legati l'antipolitica che cos'è? è un'ideologia che assorbe e utilizza la sfiducia come bandiera e abbiamo antipartiti antilider che la utilizzano per sostituire e contrapporsi ad altri utilizzare la sfiducia per farsi dare fiducia nulla di nuovo nel 57 il movimento più adista in Francia si presentò all'elezione con un solo punto all'ordine del giorno cacciate gli eletti se ora vediamo sul web troviamo una cosa abbastanza simile tutta a casa non c'è nulla di nuovo ma è una cultura dell'antipolitica che ritorna e tutti fanno riferimento al popolo utilizzano il popolo come lo strumento la clave di combattimento questo popolo che viene enfatizzato come il popolo vittima sano in sé virtuoso contrapposto a un sistema corrotto istituzionale corrotto ed ostile si fa riferimento a un popolo che non esiste la globalizzazione come dire come azione più micidiale che ha potuto fare è quella di aver dissolto il popolo e il territorio dissolto il popolo perché lo spazio sociale non è lo spazio del territorio che noi viviamo lo spazio sociale è diventato appunto globale il territorio è ininfluente e allora se nella concetto di democrazia democrazia il popolo il demos non esiste più né come popolo né come territorio rimane solo il potere la grazia e questo potere è sempre più inafferrabile sempre più forte sempre più sovrastatuale sempre più economico e sempre più finanziario sempre più quel finanze capitalismo di cui parlava il buon gallino questo secondo me è lo scenario dentro il quale ci muoviamo se le mie coordinate non sono in qualche modo vere è necessario allora scoprire qual è il senso della politica e qual è il senso dell'impegno e per questo cedo la parola a padre Sorge grazie 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 grazie